Musica Noi vogliamo ringraziare tre persone, dico solo brevemente, la prima è a nome della famiglia Dandieri dell'associazione Modisca e Fabio Giulia Fabio Giuliano è chi ci ha insegnato che nessuno è mai solo e che quando uno fa le promesse le mantiene Il coordinamento l'abbiamo già ringraziato al cimitero per quello che veramente ha fatto da viscono per la nostra famiglia La seconda persona che vorremmo ringraziare è Anna Copertino La voglio ringraziare perché con questa telecamera ha sempre testimoniato cose importanti per noi C'è sempre stata vicina a quel giornalismo che forse avrebbe meritato Antonio nel giorno in cui è stato ucciso E terza persona che vogliamo ringraziare, permettetemi di dirlo per me personalmente come un padre è il mister Antonio Piccolo Grazie